Sanità in consiglio si discute l'interrogazione di Forza Italia sul concorso Estar per operatori sanitari ed è scontro tra maggioranza e opposizione sulla relazione della Corte dei Conti sul sistema toscano. Autonomia il decreto Calderoli accende il dibattito Gianni si schiera per un nuovo regionalismo ma secondo Casucci della Lega serve più coraggio. Gran finale domenica per il carnevale dei figli di Bocco, oltre 200 figuranti al corteo reale in programma a Castiglion-Fibocchi in provincia di Arezzo. La sanità torna al centro del dibattito in consiglio regionale con un duro attacco da parte dell'opposizione alla gestione del sistema toscano. Ad accendere la miccia è stata l'interrogazione di Forza Italia sul mancato scorrimento delle graduatorie del concorso Estar per operatori sanitari. Le prove, dicono i forzisti, si sono conclusi a dicembre 2021 e dopo oltre un anno non è stata fatta ancora nessuna assunzione. La risposta in aula è arrivata direttamente dall'assessore Bezzini. Come previsto dal bando le graduatorie sono state distinte in tre, una per aria vasta e scomposte ulteriormente in otto sotto graduatorie per ambiti territoriali carenti proprio per consentire un utilizzo più efficace anche secondo le preferenze espresse dai candidati rispetto diciamo alla collocazione territoriale. Il termine di vigenza delle graduatorie è fissato in data 21.4.2024 quindi il termine diciamo di scadenza dopo due anni per l'appunto dalla loro approvazione. In tale contesto ad oggi alcune aziende hanno richiesto l'utilizzo delle relative graduatorie in maniera maggiore rispetto a altre non potendo però questo portare ad alcuna realistica previsione sull'utilizzo complessivo diciamo della graduatoria essendo la stessa a circa la metà della sua durata temporale. Al 31.12.2018 noi avevamo 5.546 operatori sociosanitari diciamo in assunti dentro le aziende sanitarie. Oggi ne abbiamo 7.363 quindi circa 1.800 in più più 32% ecco questo lo dico perché dà l'idea di come la categoria degli operatori sociosanitari sia stata una di quelle che in particolar modo anche durante la pandemia ha avuto gli incrementi più massicci diciamo di personale. Una replica che però non ha soddisfatto l'opposizione. Che avete fatto il concorso? Lei mi risponde dicendomi ma guardi consigliere nel 18 erano 5.546 oggi sono 7.363 senza aver assunto nemmeno uno di quelli che hanno fatto il concorso che era la domanda che le facevo ma perché avete fatto il concorso? Perché avete speso soldi pubblici per fare il concorso? Perché avete illuso 9.000 persone che hanno partecipato al concorso? Perché avete dato una speranza alle 2.000 persone che hanno vinto quel concorso lì? Se nei piani di fabbisogno immagino vi avessero detto che non c'era necessità visto che avete assunto 1.800 unità in più perché l'avete fatto? Perché avete dato una speranza a tante persone? Perché avete dato avete speso soldi per fare il concorso? Perché avete detto a tutti quelli che hanno studiato che vedevano in quel concorso un'opportunità di fare il concorso? Facevamo più bella figura a non fare il concorso visto che lei mi sta dicendo che non ve ne era bisogno. Era molto semplice l'assessore, non si spendevano soldi, non si illudevano le persone, non si diceva a 2.000 persone che hanno vinto quel concorso lì c'è un'opportunità lavorativa per te. Era molto semplice. Il caso del concorso sollevato da Forza Italia ha riacceso le polemiche sulla relazione della Corte dei Conti in merito alle criticità della sanità toscana. Avessi letto una relazione del genere, avessi fatto il suo lavoro avrei reagito in due modi. Mi sarei dimesso un minuto dopo o avrei chiesto le dimissioni perlomeno della metà di coloro che hanno ruoli dirigenziali all'interno del sistema sanitario regionale. Perché non il centro studi di Fratelli d'Italia ma la Corte dei Conti scrive che il sistema che avete messo in piedi è un sistema nel quale vi è la sospensione di fatto delle prenotazioni ogni qualvolta il sistema non riesca ad assorbire tutte le richieste senza che il fenomeno sia rilevato a livello centralizzato e informatico. Vi è l'impossibilità di conoscere il numero delle richieste di prenotazioni effettivamente giunte al sistema anche ai fini della predisposizione di un'offerta adeguata all'effettiva dimensione della domanda. Vi è la parziale inattendibilità dei monitoraggi sul rispetto dei tempi massimi di attesa attualmente basati sul rapporto tra le prenotazioni fornite entro tempi massimi e il totale delle prenotazioni dove non sono tuttavia considerate e quelle non accettate. Io ringrazio la Corte dei Conti perché dopo aver letto questa relazione mi sono reso conto e lo dico anche al Presidente Sostegni di non vivere in una realtà parallela perché da una parte c'è la realtà di quelli che ogni giorno e penso al mio pari anche a voi ci sollecitano per dire che non riescono ad avere risposte sulle prenotazioni, che le risposte non arrivano in un tempo congruo, che le risposte che rimbalzano in continuazione contro un muro di gomma e dall'altra parte quello che leggiamo sui giornali e dall'altra parte tutte le volte che sollecitavamo l'assessore e i dirigenti in commissione veniva uno che ci leggeva dalle tabelline dicendo che era tutto apposto. Progazioni che rilevavano tutti questi aspetti che ora non vado ad allencare, vado a concludere che è evidente che una gestione della sanità come quella intrapresa fino ad oggi ha un impatto negativo sulla salute dei cittadini e sulla sanità e alla luce di queste indicazioni dovrà essere affrontata, lo ripeto, con umiltà, consapevolezza e condivisione il problema nel suo insieme perché le liste d'attesa sono solo la punta dell'iceberg. La sanità torna al centro del dibattito in consiglio regionale con un duro attacco da parte dell'opposizione alla gestione del sistema toscano. Ad accendere la miccia è stata l'interrogazione di Forza Italia sul mancato scorrimento delle graduatorie del concorso Estar per operatori sanitari. Le prove, dicono i forzisti, si sono conclusi a dicembre 2021 e dopo oltre un anno non è stata fatta ancora nessuna assunzione. La risposta in aula è arrivata direttamente dall'assessore Bezzini. Come previsto dal bando le graduatorie sono state distinte in tre, una per area vasta e scomposte ulteriormente in otto sotto graduatorie per ambiti territoriali carenti proprio per consentire un utilizzo più efficace anche secondo le preferenze espresse dai candidati rispetto alla collocazione territoriale. Il termine di vigenza delle graduatorie è fissato in data 21.4.2024, quindi il termine diciamo di scadenza, dopo due anni per l'appunto dalla loro approvazione. In tale contesto ad oggi alcune aziende hanno richiesto l'utilizzo delle relative graduatorie in maniera maggiore rispetto a altre, non potendo però questo portare ad alcuna realistica previsione sull'utilizzo complessivo della graduatoria, essendo la stessa a circa la metà della sua durata temporale. Al 31-12-2018 noi avevamo 5.546 operatori sociosanitari, diciamo, in assunti dentro le aziende sanitarie. Oggi ne abbiamo 7.363, quindi circa 1.800 in più, più 32%. Ecco, questo lo dico perché dà l'idea di come la categoria degli operatori sociosanitari sia stata una di quelle che in particolar modo anche durante la pandemia ha avuto gli incrementi più massicci, diciamo, di personale. Una replica che però non ha soddisfatto l'opposizione. Che avete fatto il concorso? Cioè, lei mi risponde dicendomi, ma guardi consigliere, nel 18 erano 5.546, oggi sono 7.363, senza aver assunto nemmeno uno di quelli che hanno fatto il concorso, che era la domanda e le facevo, ma perché avete fatto il concorso? Perché avete speso soldi pubblici per fare il concorso? Perché avete illuso 9.000 persone che hanno partecipato al concorso? Perché avete dato una speranza alle 2.000 persone che hanno vinto quel concorso lì? Se nei piani di fabbisogno immagino vi avessero detto che non c'era necessità, visto che avete assunto 1.800 unità in più. Perché l'avete fatto? Perché avete dato una speranza a tante persone? Perché avete dato, avete speso soldi per fare il concorso? Perché avete detto a tutti quelli che hanno studiato, che vedevano in quel concorso un'opportunità di fare il concorso? Facevamo più bella figura a non fare il concorso, visto che lei mi sta dicendo che non ve ne era bisogno. Era molto semplice l'assessore, non si spendevano soldi, non si illudevano le persone, non si diceva a 2.000 persone che hanno vinto quel concorso lì, c'è un'opportunità lavorativa per te. Era molto semplice. Il caso del concorso sollevato da Forza Italia ha riacceso le polemiche sulla relazione della Corte dei Conti in merito alle criticità della sanità toscana. Avessi letto una relazione del genere, avessi fatto il suo lavoro, avrei reagito in due modi. Mi sarei dimesso un minuto dopo o avrei chiesto le dimissioni perlomeno della metà di coloro che hanno ruoli dirigenziali all'interno del sistema sanitario regionale. Perché non il Centro Studi di Fratelli d'Italia, ma la Corte dei Conti scrive che il sistema che avete messo in piedi è un sistema nel quale vi è la sospensione di fatto delle prenotazioni ogni qualvolta il sistema non riesca ad assorbire tutte le richieste senza che il fenomeno sia rilevato a livello centralizzato e informatico. Un sistema vi è l'impossibilità di conoscere il numero delle richieste di prenotazioni effettivamente giunte al sistema anche ai fini della predisposizione di un'offerta adeguata all'effettiva dimensione della domanda. Vi è la parziale inattendibilità dei monitoraggi sul rispetto dei tempi massimi di attesa, attualmente basati sul rapporto tra le prenotazioni fornite entro tempi massimi e il totale delle prenotazioni dove non sono tuttavia considerate e quelle non accettate. Io ringrazio la Corte dei Conti perché dopo aver letto questa relazione mi sono reso conto, e lo dico anche al Presidente Sostegni, di non vivere in una realtà parallela. perché da una parte c'è la realtà di quelli che ogni giorno, e penso al mio pari e anche a voi, ci sollecitano per dire che non riescono ad avere risposte sulle prenotazioni, che le risposte non arrivano in un tempo congruo, che le risposte rimbalzano in continuazione contro un muro di gomma, e dall'altra parte quello che leggiamo sui giornali, e dall'altra parte tutte le volte che sollecitavamo l'assessore e dirigente in commissione veniva uno che ci leggeva dalle tabelline dicendo che era tutto apposto. Le prenotazioni che rilevavano tutti questi aspetti che ora non vado ad elencare. Vado a concludere che è evidente che una gestione della sanità come quella intrapresa fino ad oggi ha un impatto negativo sulla salute dei cittadini e sulla sanità. E alla luce di queste indicazioni dovrà essere affrontata, lo ripeto, con umiltà, consapevolezza e condivisione il problema nel suo insieme, perché le liste d'attesa sono solo la punta del... Il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge Calderoli sull'autonomia differenziata accende riflettori del dibattito politico sul futuro delle Regioni. Un confronto che anima ovviamente anche la discussione tra gli eletti di Palazzo del Pegaso con pareri discordanti sulla proposta al vaglio del Governo. Io ritengo che l'articolo 116, terzo coma della Costituzione, scritto in buona parte secondo l'ispirazione di un grande toscano, Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, da cui poi anche nei trattati di diritto costituzionale si parla per l'Italia di una democrazia regionale, quindi non uno Stato assoluto, non uno Stato federale, ma un ordinamento regionalista. Ecco, ci debba portare oggi a un nuovo regionalismo. Io ho un regionalismo che intende, diciamo così, creare delle situazioni di differenziazione fra nord e sud, assolutamente non credo e non condivido, ma un nuovo regionalismo che dà la possibilità a ogni regione sulle materie che hanno una specificità su quel territorio, come recita la Costituzione, di potersi gestire, io ci credo, ho citato i beni culturali ma posso citare la geotermia. Chi conosce la geotermia visto che è solo in Toscana? Ecco che ci sono materie e c'è apposta un articolo della Costituzione in cui il fatto che si presentino in una specificità in quella regione comporta un'intesa fra Stato e Regione. Questo è il nuovo regionalismo su cui io sono convinto che se un cittadino ci riflette, se un parlamentare ci riflette, è giusto portare avanti. Un nuovo regionalismo, quello proposto da Gianni, che gli esponenti della Lega in Consiglio regionale ritengono troppo limitato. Lasciatemi dire che così come ci si sta muovendo a livello nazionale lo si dovrà fare anche a livello di Toscana perché per ora si è soltanto avviata la fase delle trattative dovrà essere portata avanti con maggiore convinzione. Noi desidereremmo avere più coraggio da parte del governatore Gianni il quale limita la richiesta di autonomia ai beni ambientali e culturali. Per quanto ci riguarda invece dovrebbe essere stesa ad altre materie e soprattutto occorrerebbe una maggiore sprint. Anche se a differenza di altri del centro-sinistra che stanno facendo soprattutto speculazione politica bisogna pure ammettere che il governatore Gianni su questo si dimostra un po' più aperto. Noi questa apertura la cogliamo e gli chiediamo ancora più coraggio perché la regione toscana può gestire ancora meglio di Roma certe materie nell'interesse dei toscani. Tutto ciò è previsto dalla Costituzione. Noi lo diciamo da anni, bisogna avvicinare il controllo al cittadino e bisogna capire che per il cittadino è molto più facile arrivare a Firenze anche nei territori più distaccati della nostra regione rispetto a Roma e quello che è successo fino adesso. Possiamo dire che vi è stata un'uguaglianza tra nord e sud con questo sistema centralistico? Ci possiamo accontentare? Le cose vanno bene? Noi diciamo di no. Proviamoci con l'autonomia. Il Carnevale dei figli di Bocco festeggia i suoi primi 26 anni con un'edizione tutta dedicata a Pietro Vannucci, detto il perugino, a 500 anni dalla sua scomparsa. Per le viuzze di Castiglion-Fibocchi in provincia di Arezzo tornano a sfilare le maschere barocche ispirate alla tradizione veneziana tra concerti, spettacoli circensi, artisti, cantastorie e mostre itineranti. Ogni qualvolta i nostri territori ci propongono le loro tradizioni migliori il Consiglio regionale apre le proprie porte. E' bello sapere per la 26esima edizione a Castiglion-Fibocchi la maestria degli artigiani locali. Una comunità che si stringe intorno al Carnevale ci prova a raccontare una storia, una storia secolare che guarda anche alle innovazioni e al futuro. Quest'anno il Carnevale è dedicato ai 500 anni dalla sua scomparsa al perugino. Anche questo è il segno di un'identità che si ripete. Allora permettetemi di invitare le cittadine e i cittadini della Toscana ad andare a conoscere uno splendido comune, un Carnevale tra i più belli della Toscana ed essere lì vuol dire non solo conoscere la nostra terra e le nostre tradizioni ma vuol dire anche andare alla scoperta delle innovazioni che solo un Carnevale come quello di Castiglion-Fibocchi sa proporre. Un Carnevale unico, organizzato e realizzato in proprio dagli abitanti del Borgo Toscano. È un Carnevale storico, ci piace definirlo, non è un semplice Carnevale ma è una revocazione storica all'interno di un Borgo meraviglioso che sarà in quei giorni contornato e colorato da opere d'arte uscite completamente a mano dalle sarte del paese. Il Carnevale dei figli di Bocco, come già è stato detto, è nato da diversi anni questo è il ventisesimo e è nato semplicemente con grande passione e amore per il proprio paese. Siamo tutti volontari, siamo persone che nel tempo libero hanno deciso di riunirsi di fare un qualcosa di diverso, un qualcosa che è nato per l'amore del proprio paese, veramente. Devo ringraziare tutti quanti, tutti gli abitanti di Castiglion-Fibocchi sono tutte persone eccezionali e niente, venite, venite a vedere questo mondo magico che è veramente un'opera d'arte. Direttrice, qual è l'unicità del Carnevale dei figli di Bocco? Cosa è diverso? È diverso perché sono tutte maschere uniche, vestiti unici, sono opere uniche, non ripetibili non si possono modificare e vengono indossate da ragazzi, adulti, bambini, persone che mettono la propria anima in queste maschere e è bellissimo. Domenica 12 febbraio è in programma il gran finale con il Corteo Reale, composto da oltre 200 figuranti, tra regine, principesse, fate, maghi e arlecchini. Il programma e tutte le informazioni su www.carnevaledeifigliidibocco.it Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.carnevaledeifigliidiboc.it Grazie a tutti!